Presta a battere il primo rigore della serie. Freddissimo ha trasformato. Va sul dischetto. Rigore calciato in maniera davvero impeccabile. E fa centro! Tutto pronto per questo rigore. E c'è il gol! Nulla da fare qui per il portiere. Scesni dice di no. E il portiere si salva. Ha intuito tutto e ha sventato il penalty. Decisivo qui il portiere. Ha salvato il risultato evitando il gol. E c'è il gol! Si presenta sul dischetto per tenere ancora in partita la propria squadra. Non sbaglia il rigore! Ha una grande pressione addosso. Può dare la vittoria alla sua squadra. Coppa Italia che ha emesso dunque il suo verdetto. Si portano a casa il trofeo. Che finale, Pier. Bella, ricca di emozioni. Fossero tutte così. Complimenti entrambe per aver dato tutto. Si sono sfidati a viso aperto. Hanno ribattuto colpo su colpo. Hanno cercato di superarsi. Alla fine sono stati necessari i calci di rigore per stabilire un vincitore. La regia ci ripropone il replay del calcio di rigore. Conclusione imparabile per il portiere che non si era mosso. Come possiamo vedere da queste immagini. Alla fine sono stati necessari. Una giornata da ricordare. Comincia la festa istantanea che durerà per sempre. Assistere a una premiazione è sempre un momento speciale. Le emozioni sono tante. Si ripensa a tutti i sacrifici fatti per arrivare in vetta. A tutte le persone che ti sono state vicine nelle varie tappe di avvicinamento. A questo traguardo. Una vittoria di squadra di cui possono e devono andare fiere. Non poteva mancare il rituale del cielo di campo. con la Coppa appena conquistata. Che viene mostrata e dedicata ai tifosi. È fondamentale a sottolineare anche oggi. Soprattutto oggi. Il loro apporto che è stato importantissimo. Tutti a caccia dello scatto perfetto. È per portarsi a casa un ricordo di questa splendida giornata. Che grandi scene. C'è la foto di gruppo con la Coppa a immortalare questo momento. Eu primarily Willyos. Sottolineare! Ruissi! Luissi! Ruissi! Per portarsi a tutti i beni.